Poste nel cuore di un'ampia vallata sorridente e tranquilla, protette sui lati da rigogliose alture che delimitano lo spazio con discreta misura, le terme acquesante di Antonimina vivono la loro delicata armonia di natura, confortate costantemente dal mite azzurro del cielo e da un'aria limpida che invita l'animo alla serenità e alla pace. Di qua sorge la Rocca Maestosa dove Gerace sgranella suoi secoli in un intimo e palpabile afflato di spiritualità francescana, dall'altro lato ci sono verdi e blande colline che mostrano al sole grandi serre di querce ed olivi, sapienti testimoni di un'antica e dolce fecondità. Le potenzialità curative delle acque termali, conosciute come antiche acque sante, erano note fin dai tempi remoti, poiché furono utilizzate dall'antica città di Locri e Pizzefiri. Gli antichi locresi facevano pervenire le acque nella loro città magno-greca mediante un acquedotto costruito lungo la sponda della fiumara di Gerace. Per la loro ubicazione e per i noti eventi storici vennero attribuite a Locri e Pizzefiri, successivamente a Gerace, a Gerace ed Antonimina e in ultimo ad Antonimina e Locri. Persino Plinio, per cui Locri era la porta d'Italia, fece menzione delle acque termali dell'antica città. La grande efficacia terapeutica di queste acque fu dunque rinomatissima presso gli antichi, che ne scrissero a lungo. Nel 1500 lo storico Gabriele Barrio, nel volume Antiquitate et situ Calabrie, così ne fa menzione. Questa città, ossia Gerace, è ricca di ottime sorgenti di acque sulfure e salse, utili per molte malattie ed in particolare giovano per curare la sterilità delle donne. Il professor Geraci di Reggio Calabria, in un suo trattato, descriveva le terme di Antonimina, Locri, come stella della magna Grecia. Ricordarono ancora le acque termali moltissimi altri studiosi, ma anche storici e naturalmente medici, fra cui il dottor Accorinti, che nel 1830, per incarico dell'intendente alla provincia, studiò le acque termali su cui così si espresse. Nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, gli individui dell'intera provincia e di altre, nonostante essere il locale aperto, senza aver uno asilo e ricovero, a folla si recano ritraendo la perfetta guarigione o il massimo alleviamento, buttandosi in tali salutari acque. Per si fatte ragioni, meritano il nome di Acque Sante. Le acque, conosciute appunto come Acque Sante Locresi, erano quindi note nell'antichità, classificate come acque termominerali, isotoniche, leggermente sulfure, salso-solfato-alcaline, con tracce di iodio. Le acque sgorgano costantemente a 36 gradi di temperatura e sono batteriologicamente pure. Le cure per uso idropinico consentono di fruire di effetti lassativi, colagoghi, coleretici, colecistocinetici, stimolanti di vario grado, a seconda della concentrazione dell'acqua usata. Sono impiegate per bagni, fanghi e per via trasmucosa, con beneficazione risolvente, detergente e stimolante delle difese organiche e del ricambio generale, trovando quindi indicazione nei postumi di processi infiammatori cronici di qualsiasi origine.